Le più divertenti sono le donne. Ci sono donne e petrici, lo sapevi? No. Che poi basterebbe che copiassero se stesse. Allunghi il passo. Amelia! Dai, sbrigati! Guarda anche me. Dove? In uno studio di pittori. Mentre poso. Che c'è da vedere? Voglio vedere come lavora il pittore. E come posi tu. I pittori sono delle carogne. Devi stare attenta. E le modelle interessano i uomini. Non ad una ragazzina.